Scythe, per favore, mi droppi questo cazzo. Benvenuti a tutti i miei Slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo a ascoltare Radici di Only One Fit Scythe Baby. In tutta la sincerità del mondo, questa reaction non sarebbe mai dovuta uscire per il semplice fatto che non avevo pensato di reactare il singolo. Only One onestamente non è che mi faccia impazzire e no, non mi fa neanche schifo, però quel poco che ho ascoltato non mi ha detto granché e di conseguenza non l'ho mai approfondito. Ma nella traccia c'è anche Scythe e a differenza sua sono un gran fan di lui. Tra l'altro un'occasione per reactare a qualcosa in attesa dell'album che non si sta capendo, è pronto, non è pronto, ci sta lavorando, non ci sta lavorando, non si capisce un cazzo. Poi il motivo più importante che mi ha spinto a reactare questa canzone è lo snippet che ha caricato oggi Only One sul suo profilo, che onestamente mi ha incuriosito. Mi sono detto l'ascolterò e così stiamo facendo, o almeno faremo tra poco. Only One già abbiamo avuto modo comunque di ascoltarlo nella reaction a Dark Boys Club, trovate il link in descrizione. E tra l'altro una news fresca, perché io non lo sapevo, l'ho scoperto proprio pochi giorni fa, dovrebbe essere uscito da 777 Ant. Non chiedete il mio motivo, né come, né perché, né quando, perché né ogni idea. Lo scopriremo anche con l'uscita di questo singolo, perché andrò a vedere alla fine dell'ascolto i diritti e vedremo se effettivamente c'è l'etichetta della Dark o no. In attesa della mezzanotte vi ricordo di seguirmi sui social, uso Facebook e Instagram su tutti e posto un sacco di roba. Sia mia personale, sia che cazzate, sia cose riguardanti la musica, ma soprattutto ciò che riguarda il canale. Quindi quali video usciranno, quando usciranno, perché, e ogni tanto faccio anche qualche sondaggio per vedere effettivamente quali video vorreste vedere. Quindi se ci tenete al canale è tutto, seguitemi, mi raccomando. E arrivata mezzanotte, io direi che possiamo procedere con l'ascolto. Ecco il side baby. Side drop, ti prego. Ok, controlliamo subito sta roba di diritti e effettivamente non c'è alcuna traccia di 777, quindi signori, credo che sia proprio ufficiale la cosa che è uscito. Parliamo un po' del pezzo invece. Oh, signori, è una hit. Posso dirlo, è una hit, non solo, ormai già lo sapete, qualsiasi canzone mi piace, la vado ad aggiungere alla mia playlist. Sulla trap, comunque rap italiano, trovate il link in descrizione, mi raccomando, seguitela perché l'aggiorno sempre. Side, proprio forte. Forte, 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 mi è piaciuto tantissimo. E anche Only One, sinceramente, non mi è dispiaciuto. Non mi è dispiaciuto, non ho problemi ad ammetterlo. Ha una bella sonorità, forse un po' generico in qualche punto, ma vabbè, comunque devo dire molto meglio di quello che mi potessi aspettare. La produzione di The Glock, sinceramente non lo conosco, non so chi sia. E il beat è carino, se non fosse che, anche in questo caso, forse è un po' generico, un po' troppo type beat, per dirvi, è molto sulla wave, mi viene subito in mente 24D, Money Man e Lil Baby, o comunque Drip to Hard e tutta quella wave lì con le chitarrine, i bassi, quindi non particolarmente originale, ma comunque suona bene e con tutto il mood della canzone si sposa, quindi ci sta. Per il resto sono davvero sorpreso e soprattutto contento di aver fatto questa reaction, perché è una hit, è una hit, pochi pezzi nel mainstream, anche se forse qua non parliamo un po' di mainstream, forse Side, ma Only One no, che mi piacciono. Proprio già adesso me lo vorrei riascoltare, cioè secondo me lo avrò in loop per un po'. Side, per favore, mi droppi questo cazzo di album, sto aspettando, non ce la faccio più, penso un po' tutti. Ogni volta carica una storia tu fai, ok, forse, forse sta per droppare qualcosa, una cover, una tracklist, un annuncio, una qualsiasi cosa, un singolo. Pam, storia mentre fuma l'erba, pam, storia mentre si bacia con la ragazza, pam, sono davvero contento per te, non mi fraintendere, stai vivendo la tua miglior vita, però rendici contenti pure a noi, eh, se ti va. Sono contento, in sto periodo sta uscendo un bel po' di roba, alcune anche, vedi, forti come comunque questa, sia in Italia che in America parlo, e infatti stanno anche aumentando i video, ve ne siete accorti? È vero che ve ne siete accorti? No, vabbè, comunque sì, diciamo, mi sto mettendo sotto un po' di più, sia perché voglio caricare più video, sia perché, ragazzi, in sta cazzo di quarantena, zona rossa, porco due, non si può fare più nulla. E almeno mi metto qua davanti alla telecamera, registro e mi tengo occupato in qualche maniera, infatti, per esempio, uscirà questo video, già vi spoilerò qualcosa, ma sì, dai. Dopo questo dovrebbe uscire la reaction al Forever and Ever di Rosa Chemical, e dopo Rosa la reaction al singolo di Ketama, Aquile si dovrebbe chiamare, non ne sono sicuro. Quindi più o meno questo è il programma per i prossimi video, poi ho già altre idee in mente, quindi devo dire che sono molto contento perché è un periodo in cui c'è un sacco di idee. Comunque, cosa ne pensate del singolo? Vi è piaciuto? Avete preferito Only One o Side? Conoscevate già Only One? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi le reaction che già vi ho detto, altre reaction, altri video, un botto di roba. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo Slat.